In Cammino per Santiago, storie, pensieri, incontri e il volume scritto da Gianni Amerio è presentato a Palazzo Lascaris su iniziativa dell'Associazione dei Consiglieri della Regione Piemonte. Si tratta degli appunti di viaggio dell'autore che raccontano gli 800 chilometri percorsi, zaino e spalla, nel luglio del 2014. Io sono partito per il cammino come un semplice pellegrino, con un semplice cellulare per prendere qualche appunto e usarlo come macchina fotografica. Il libro non vuole insegnare niente a nessuno, vuole semplicemente essere racconto di un'esperienza vissuta sia in termini pratici, quindi fatta della quotidianità di ogni giorno, che sia di esperienze forse un pochino più elevate, forse chiamarle spirituali persino eccessivo, quello dipende dall'indole e dall'idea di ciascuno. Però sicuramente è stato un viaggio in due dimensioni, uno orizzontale che mi ha portato fino a Santiago e uno verticale, nel mio inferno e nel mio paradiso.